oh ma fai fatica andare su di lì come mai e non va non va va oh ma non va oggi la moto in folle in folle a casa non era il folle non sappi che ti erano attaccato dietro con una santa è un piero mi fai scomporre ah che piero era lì acroppato il parapango è un piero è un piero bravo quale che devi fare quello in mezzo quello là in mezzo ostia è alto quello lì poi dentro qua di qua in mezzo ti sbazza su quello lì se lo fai tutto alto ti sbatti su di meno però devi picchiare provo a farmi vedere aspetta un atto aspetta un atto sono morto quello là mi sa che dice quello là grosso là è un atto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.